Siamo arrivati anche al top applicazioni di febbraio, anche se sì, in teoria siamo a metà febbraio però come potrete capire dalla mia voce non sono stato bene negli ultimi giorni quindi mi scuserete se questo video non è uscito all'inizio del mese quindi preparatevi a vedere le mie 10 applicazioni gratuite da scaricare assolutamente sul vostro smartphone Android o iOS detto questo, iniziamo! E per ritrovare sul mio canale ancora una volta un saluto da Simone iniziamo subito con questo video top applicazioni dicendovi che l'ho diviso in 3 parti diciamo 4 applicazioni comuni sia per Android che per iOS e 3 applicazioni per iOS e per Android ciascuno questo perché? Perché oramai siamo arrivati al non so neanche io quale episodio di questa rubrica boh sarà il decimo forse, quindi è diventato abbastanza complicato trovare applicazioni veramente fighe che siano compatibili sia con Android che con iOS quindi per lasciare contenti tutti quanti ho deciso di fare 433 come uno schema calcistico in modo da coprire un po' tutti gli ambiti delle applicazioni inoltre se ne conoscesse magari qualcuna di molto interessante che magari non ho mai menzionato in un video fatemelo sapere qui sotto nei commenti perché magari nel prossimo video top applicazioni potrei prendere spunto anche dai vostri commenti e dai vostri suggerimenti detto questo partiamo con la prima app che è disponibile sia per Android che per iOS tutti quanti conosciamo Amazon ecco tra la sfilza di servizi che questo colosso mette a disposizione ce n'è anche uno che io non conoscevo cioè un servizio di cloud si chiama Amazon Drive ed è una specie di Dropbox diciamo ma targato Amazon qui sarà possibile proprio come su Dropbox o Google Drive immagazzinare le foto, video o documenti vari ogni account ha la possibilità di sfruttare 5 giga gratuiti per i documenti ma se si ha già l'accesso ad Amazon Prime che comunque abbiamo già in tantissimi si ha lo storage illimitato per quanto riguarda le foto che alla fine è la cosa più interessante insomma un bel po' di spazio totalmente senza vincoli infatti è poi possibile attivare pure il backup automatico delle foto dello smartphone in modo che ogni volta che si scatta una foto o si salva una foto sul telefono essa si scaricherà automaticamente sull'app scegliendo se farlo solo quando connessa al wifi o anche con la rete dati la cosa bella di Amazon Drive poi è la connessione infatti è sì disponibile l'applicazione per smartphone ma anche quella per tablet e quella per pc se invece si vuole ampliare il piano dei 5 giga gratuiti si può fare con un piano di partenza di 100 gigabyte al costo di 12 euro all'anno quindi alla fine 1 euro al mese che secondo me ci sta come prezzo ma passiamo ora ad un'altra applicazione molto interessante che però è disponibile solo per Android ma lo faccio soltanto se mettete un mi piace qua sotto no scherzo non lo so se lo fate però se lo fate ovviamente supportate il canale quindi magari attivate anche la campanellina delle notifiche voilà visto che ci siete ma questa applicazione si chiama Universal Copy si tratta di una semplice app che permette di copiare un qualsivoglia testo visualizzato sullo smartphone è utile in app come Instagram, YouTube o Facebook che non permettono di copiare un testo con la semplice pressione prolungata su di esso basterà visualizzare a schermo il testo che ci interessa copiare abbassare la tendina delle notifiche e far partire Universal Copy da qui sarà possibile scegliere quale porzione di testo copiare sia a selezione a blocchi sia tramite selezione testuale precisa dopodiché il testo da noi scelto lo ritroveremo ovviamente pronto da essere incollato ovunque ci serva questa app come vi dicevo è disponibile in maniera gratuita solo ed esclusivamente sul Play Store ma passiamo adesso ad un'applicazione disponibile solo per iOS che vi ho spoilerato in una Instagram Stories ieri quindi se non mi seguite su Instagram ve lo ricordo che io ho la simoiello46 comunque questa app si chiama Double Take ed è forse la rivelazione di questo inizio 2020 questa fantastica app infatti ci permette di registrare dei video simultaneamente con tutte le fotocamere del nostro iPhone quindi sull'11 Pro per intenderci sarà possibile registrare con le 3 cam posteriori e con la fotocamera anteriore contemporaneamente l'interfaccia poi è molto semplice basterà premere in basso a sinistra e selezionare quali delle fotocamere vogliamo in funzione così il video che ne risulterà sarà composto da un riquadro con la cam posteriore e uno con la cam anteriore ovviamente è possibile switchare tra le due quale avere come cam di sfondo e quale a riquadro e l'audio si adatterà a seconda della camera che stiamo usando come principale poi è possibile scegliere tra le diverse modalità di ripresa cioè se far uscire due video separati da montare successivamente se far uscire un video montato con le due cam assieme a riquadro come quello che stavamo vedendo prima oppure possiamo scegliere se dividere lo schermo in due parti uguali la prossima app è sempre un'applicazione che riguarda la fotografia ma è disponibile per tutti e due sistemi operativi e si chiama Fuji quello che mi ha colpito di più è sicuramente l'interfaccia appena si apre si vede il mirino in alto a sinistra che riproduce in piccolo ciò che la fotocamera posteriore sta vedendo appena si avvicina al volto proprio come se stessimo guardando nel mirino di una fotocamera parte l'interfaccia vera e propria questo è soltanto un effetto grafico però è simpatico una volta all'interno dell'interfaccia vedremo un tastone di scatto la possibilità di mettere le solite impostazioni come il flash, il timer, la diversa fotocamera e gli effetti di luce casuali una volta scattata la foto infatti proprio come una vecchia fotocamera potrebbero esserci dei flare casuali potrebbe essere venuta un po' sfoccata ai lati insomma proprio come nelle vecchie fotocamere di un tempo ovviamente quindi l'effetto degli scatti sarà molto vintage ma secondo me questa pur essendoci tantissime altre app che replicano l'effetto vintage delle vecchie fotografie è quella forse fatta meglio provatela dunque tanto anche lei è disponibile in maniera gratuita per tutte e due gli store poi passiamo a Quick Lyric che è disponibile in realtà soltanto per Android Quick Lyric come dice già il titolo è un'app per i testi delle canzoni quando faremo partire una canzone da qualsiasi servizio musicale Spotify, Apple Music, Amazon Music che sia quando vorremo il testo a schermo basterà premere sulla notifica apposita oppure se non vogliamo la notifica si potrà tenere solamente dall'applicazione dunque avendo il testo solo nell'app senza apparire in sovraimpressione la cosa ottima però visto che esistono tantissime app che fanno la stessa cosa è che praticamente tutte le canzoni sono sincronizzate anche a tempo con la musica cosa che ad esempio su Apple Music o Spotify si funziona ma è imprecisissima passiamo poi all'applicazione che forse è quella che mi è piaciuta di più effettivamente tra queste 10 però è disponibile solo per iOS e si chiama 24 fps e ovviamente anche questa è un'app per registrare video ma qui si arriva ad un livello assurdo allora a parte il poter mettere una tonnellata di filtri ai nostri video sarà possibile scegliere quello automatico che l'app ci consiglia per quella scena e scegliere anche il tipo di stabilizzatore da usare per intenderci oltre alla stabilizzazione standard ci sarà anche quella cosiddetta cinematografica che sarà in ritardo rispetto al nostro movimento per renderlo precisissimo e super stabilizzato quindi per fare riprese come B-roll per un video ad esempio è perfetta e dopo aver finito poi sarà possibile aggiungere anche un testo, emoji o una canzone alla nostra clip secondo me è davvero un'app che merita se volete fare video con lo smartphone ci sono anche altre funzioni che però non sto ad elencarvi perché davvero inizierei ora e la finirei nel 2023 quindi se la volete provare mi raccomando scaricatela allora non pensavo che avrei mai parlato di Microsoft Edge come un browser da consigliare ma mai nella vita eppure col nuovo aggiornamento il browser di Windows 10 è diventato forse la prima vera alternativa a Google Chrome se Chrome è sempre stata la scelta obbligata per PC e smartphone ora Microsoft con il nuovo Edge vuole ribaltare la situazione non starò qui a parlarvi di che cosa rende il nuovo Edge molto migliore del vecchio perché per parlare di Chromium eccetera anche qua ci vorrebbe un secolo e mezzo però vi basti sapere che io una chance anche su PC gliela darei e proprio perché dovreste dargli una chance su PC visto quanto è meno energivoro rispetto a Chrome che è la sanguisuga della RAM su desktop ci sta benissimo in accoppiata con Edge Mobile ovviamente non è un browser rivoluzionario anzi è molto simile a Chrome come filosofia ma se userete Edge su desktop sarà necessario averlo anche su mobile con il quale potrete sincronizzare pagine preferite e molto altro o molto spesso mi viene chiesta un'alternativa al solito l'Isroom per modificare le foto su smartphone perché comunque lo capisco che non sia sicuramente l'applicazione più intuitiva del mondo e soprattutto la più leggera beh dopo averla provata per un po' io ho un'alternativa da consigliarvi e si chiama Polish questa app ha tutti i parametri per modificare con precisione una foto per i social con tanto di curve RGB, HSL anche se quelli purtroppo sono a pagamento ma anche senza usare gli HSL è abbastanza completa tutti i filtri sono tarabili e scalabili è possibile gestire bene le ombre e le luci la tinta, il calore, la saturazione e gli effetti cosiddetti di glitch proprio di questi effetti ce ne sono una tonnellata da quelli RGB a quelli radiali a quelli distorti al massimo insomma è un'app veramente fenomenale per la modifica foto da provare assolutamente e arriviamo alla penultima app che è un'esclusiva per Android che si chiama Verticoons ed è forse il primo icon pack che consiglio da boh dal 2016 forse se avete un launcher che permette la modifica delle icone come Nova Launcher ad esempio basterà applicare questo icon pack e capirete subito perché lo trovo così figo tutte le icone sono come dice il nome stesso in verticale di sicuro le icone più bizzarre che abbia trovato da molto tempo a questa parte ovviamente anche questo icon pack sotto forma di applicazione è disponibile sul Play Store in maniera gratuita per pareggiare i conti l'ultima applicazione è un'esclusiva iOS che si chiama Petual per spiegarvela però non ve la mostrerò come le ultime app ma vi farò comparire la schermata del mio iPhone qui a fianco ecco questa è l'icona di Petual che vado a premere ed aprire subito perché vi devo spiegare che cos'è questa applicazione bene è un po' un organizzatore di buone abitudini io adesso posso andare con questo più qua a fianco ad aggiungere un'abitudine ad esempio fare esercizio, non assumere caffeina, fare pratica di yoga insomma svegliarci presto ad esempio ecco io voglio fare questa prova di buone abitudini dello svegliarmi presto ok quindi io vado a selezionare svegliarmi presto e lo voglio fare per 7 volte alla settimana dai almeno la domenica ce lo diamo di riposo quindi facciamo 6 volte a settimana e diciamo di ricordarcelo alle... dai facciamo 7 eventi perché siamo buoni va? ok ecco io tutte le mattine alle 7.20 riceverò una notifica che mi chiederà ti sei svegliato presto stamattina? se la risposta è sì io entro nell'applicazione e premo sulla scritta che come vedete si illumina escono anche questi coriandolini molto simpatici e se io faccio uno swipe verso sinistra vedrò appunto lo storico quindi se io premerò che mi sono svegliato presto oggi poi domani, poi dopodomani, poi dopodomani ancora bla 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 la domenica no ok e quindi questo ci manterrà diciamo uno storico perché se io faccio un altro swipe come vedete ci dice quante volte l'abbiamo fatto quanto è il nostro record personale di mantenimento di questa buona abitudine insomma è un mantenitore di buone abitudini che ne so ad esempio io metto che non voglio assumere caffè e non lo voglio fare per tre giorni alla settimana faccio ok ed ecco qua che esce fuori che appunto io oggi magari non ho assunto caffè quindi metto che oggi sono stato bravo e poi se lo faccio per tre volte a settimana vorrà dire che il mio obiettivo settimanale è stato completato se vi va provatela anche voi perché secondo me come concept non è per niente per niente male ma siamo arrivati alla fine di questa top 10 di applicazioni io spero che vi siano piaciute se fosse così mi raccomando supportate il canale con un mi piace e anche con l'iscrizione se non l'aveste ancora fatto vi ricordo come sempre che tutti i link utili sono qui sotto in descrizione io spero di rivedervi presto sul mio canale e ancora una volta un saluto da Simone ciao